Abbiamo cercato di raccogliere una nuova esperienza da un couchservist e abbiamo qui Pecchi che viene da Taiwan e volevo che ci parlassi della sua esperienza visto che è venuta qui a Napoli. Ciao a tutti, è stato un piacere conoscere il couchservist in questo gruppo, questo gruppo mi ha affascinato perché sia per scambio culturale anche per migliorare le lingue, se ti interessa l'inglese parli con le persone che vengono dall'America, è molto carino questa cosa. Comunque durante quest'anno ho cercato di integrare molto bene su questo municipio tramite organizzare qualche evento, infatti ho conosciuto tante persone meravigliose che sono straniere anche locali. Quando io vado all'estero, io cercavo di dare richieste a diversi couchservist, loro sono centrici che hanno ospitato, io e mio marito che è italiano-napoledano. Per esempio quest'anno siamo, l'anno scorso, siamo andati a Israele e Giordania e siamo stati ospitati in quattro città. È stata una respirazione molto molto bella e particolare e questa cosa mi fa sentire vivi perché non è solo un racconto ma è una condivisione. Per me è anima di questo... grazie, grazie.